Signori buongiorno, Richard Jewel su NaoTV o Sky che sia, storia vera di un guardia giurata che ha scoperto una bomba, la regia è di Clint Eastwood e si vede, è un bellissimo film, non è un capolavoro ma è un otto, uno di quegli otto che però riguardi più che volentieri. Storia vera, l'ho già detto, consigliato, un saluto a tutti, iscrittevi al canale, mettete mi piace, ciao ciao!